Ho chiesto al Presidente del Consiglio regionale Sospiri di inserire nel prossimo Consiglio regionale la mia interpellanza sulla Banca Popolare di Bari. Sappiamo tutti le difficoltà di questo istituto e soprattutto le gravi conseguenze del piano di riconversione dei nostri commissari. Per questa ragione dobbiamo tutelare il nostro istituto, soprattutto per quanto riguarda le filiali e soprattutto la presenza di queste filiali nelle aree interne, così come del personale. Il piano prevede una forte riduzione sia di filiali e sia di personale. Per questa ragione abbiamo bisogno che la Giunta regionale, in maniera particolare l'assessore Febbre e il Governatore Marsili, si impegnino davanti al Consiglio regionale per portare avanti questa vertenza fondamentale per la nostra regione, in maniera particolare per le province di Teramo e Pescara. Dobbiamo tutelare i servizi creditizi in questo momento specifico storico della nostra regione e soprattutto i livelli occupazionali.